Ben trovati, ben trovate. Oggi parliamo di emozioni. E perché parliamo di emozioni? Perché ultimamente voglio che i video siano in risposta ai bisogni che voi manifestate. E abbiamo visto che nei tanti commenti, nelle tante mail che mandate, c'è costantemente questa richiesta. Come faccio a zittire le mie emozioni? Cancellare le mie emozioni? Gestire le mie emozioni? Annullare le mie emozioni? Qualcuno ha scritto uccidere le mie emozioni, che devo dire la verità non l'avevo mai sentito espresso così chiaramente. Uccidere un'emozione non me l'ha mai capitato, però mai stupirsi, insomma. Allora, perché? Questa è la domanda. Vogliamo privarci di tante amiche, perché questo vorrei vedere con voi in questo video, tante amiche utilissime, che vogliono solo il nostro bene e che ci vogliono solo preservare come sono le nostre emozioni, perché sostanzialmente noi ci facciamo travolgere dalle emozioni. E al di là del fatto che a volte le emozioni ci devono travolgere e ci devono sconvolgere, e vedremo anche questo perché, ma noi evitiamo di confrontarci con le emozioni. Allora questo video chiamiamolo parlare con le proprie emozioni, ascoltare le proprie emozioni, perché davvero sono delle amiche che ci parlano e vogliono solo essere ascoltate. Quando non le ascoltiamo, quando cerchiamo di ucciderle, come diceva questa persona, è chiaro che si ribellano ed è chiaro che aumentano anche di forza, di intensità, e rischiano di travolgerci. Però anche in quell'essere travolti, anche in quel, chiamiamolo così, in quel gesto di un'emozione che arriva e ti spinge a terra, c'è un messaggio. Proviamo a decodificare un po' in generale i messaggi delle nostre varie emozioni. Io ho fatto una piccola lista in base proprio a quello che voi avete chiesto. Si parte dalla rabbia. Ok, come faccio a spegnere la rabbia? La rabbia, prima che ucciderla, spegnerla e annullarla, non sentirla, dobbiamo capire a che serve. La rabbia è fondamentale, come ognuna delle nostre amiche, perché ci insegna due cose. Uno, a percepire l'ingiustizia. Due, a far rispettare i nostri confini. Ma facciamo un passo indietro, così facciamo una premessa generale che ci servirà a capire come funzionano tutte le emozioni e poi a vedere nello specifico ognuna che messaggio porta. Che cos'è un'emozione? Un'emozione è proprio un'energia. Emozione viene da ex moveo, cioè movimento che dall'interno va verso l'esterno. E che cos'è questo movimento? È energia, energia fisica, energia psichica che dall'interno del nostro corpo tende ad attraversarci, ad andare verso l'esterno. A che serve? L'emozione è una funzione adattiva rispetto all'ambiente. Sentite che parolone, funzione adattiva. Che vuol dire? Vuol dire che è qualcosa che in modo più veloce e più diretto del ragionamento, che pure serve ad adattarci all'ambiente, ci dà delle informazioni, ci porta tante informazioni, ci dice che fare. Ogni emozione ci porta un messaggio. Ti dice, ehi, sveglia, devi ora stare fermo, muoverti, scappare, fare questo, fare quest'altro. E vediamo il messaggio. Ma ogni emozione ci sta dicendo come adattarci alla situazione di vita che abbiamo in quel momento. Come il ragionamento? Io, se sono alla fermata dell'autobus, leggo, l'autobus arriva tra dieci minuti, ragione, dico dieci minuti, allora ho il tempo di fare quella telefonata, nel frattempo entro nel negozio e compro la penna che mi serve, ce la dovrei fare, faccio un calcolo veloce, ragione, dico ok, fra dieci minuti sono qua, risolvo tre problemi e prendo pure l'autobus. Questo è il ragionamento più lento. L'emozione invece, che cos'è? Io provo a entrare nel supermercato, nel negozio per comprare la mia penna, vedo tanta gente, mi si blocca il respiro, paura. Che mi sta dicendo quella paura? Attento, frena, prima del ragionamento, al di là del ragionamento che hai fatto, rischi di perdere l'autobus, perché già ha calcolato in modo immediato, vedendo la scena, vedendo tante persone, che puoi non farcela. Ok, ora, esempina la mia parte che fa gli esempi, mi ha creato questo esempio, che devo dire, non è male, però è proprio così, il ragionamento è più lento, l'emozione subito mi dice che fa, cioè mi tratti a non entrare in quel supermercato, sennò perdi l'autobus. Ok, spero che sia chiaro, perché questo ci fa capire chi sono queste amiche, sono quelle che prima di ogni altro mi dice come adattarmi all'ambiente. non esistono emozioni giuste, emozioni sbagliate, non esistono emozioni belle, emozioni brutte, esistono solo emozioni più piacevoli, che ci piacciono di più, emozioni più spiacevoli, perché noi le reputiamo spiacevoli, ma anche la tristezza, è vero che è in assoluto spiacevole? Assolutamente no, la tristezza può essere davvero piacevole, se la accogliamo, se capiamo che ci vuole dire, se la lasciamo fare, lasciamo che la tristezza ci sia, che è la malattia la tristezza. Sei triste, mi dispiace, ma perché mi dispiace? Cioè se una persona dice oggi mi vesto di nero, mi dispiace, no, il nero è un colore, ti può piacere più il bianco, più il rosso, ma il nero è un colore, non è che ti dispiace se una persona si veste di nero. La tristezza ha tanto di buono, tanto di piacevole, ma vediamo, vediamolo insieme. Allora, partiamo dalla rabbia. Dicevamo, che cosa ci dice la rabbia? Perché subito, ok, la rabbia ci dice c'è qualcosa di ingiusto, c'è qualcosa di ingiusto, se sei in fila, classico, è la prima persona, una scusa, scusa, ti scavalca, la seconda ti dice guarda un attimo là, mi sei dire che ora è? E ti passa avanti, la terza, eh no, è un mio amico, fatelo passare avanti. Dopo un po' tu provi automaticamente rabbia, perché stai percependo l'ingiustizia di quella situazione. E in più, questa spinta dall'interno verso l'esterno che ti attiva, la rabbia è, insieme alla paura, dall'emozione con maggiore attivazione che abbiamo. Ti attiva per dire fai rispettare i tuoi confini, il tuo tempo è uguale al tempo degli altri. E qui riflettiamo, perché noi abbiamo tutti paura della nostra rabbia? Perché non ascoltando, non ascoltando quel messaggio, di solito facciamo una cosa, la reprimiamo, la comprimiamo, la rabbia è come una molla. Piccola rabbia non espressa è un tocchetto, una tacca di molla compressa, poi altra tacca, poi altra tacca, poi altra tacca, ma sì, ma dai, ma non mi arrabbia, faccio finta di niente, non la sento, non l'ascolto, quindi non faccio rispettare i miei confini fino a che esplode, o abbiamo paura che esploda in violenza e aggressività. Ma in realtà l'aggressività, la psicologia ce lo insegna bene, è correlata alla frustrazione non espressa. Quando noi viviamo tante frustrazioni, non le elaboriamo, non le esprimiamo, diventiamo aggressivi. Non è la rabbia in sé che ci porta all'aggressività, la rabbia va espressa, e come va espressa se siamo in quella fine, diciamo scusi, però c'ero io prima di lei, è mezz'ora che aspetto, mi perdoni, per ora devo fare, no ma io, mi scusi, ora faccio io. Sentite, la rabbia è questa, la rabbia è ora si rispettano i miei confini, non è ma allora qui basta, se invece faccio passare 12 persone avanti, poi rischio di imbracciare un mitra, senza ascoltare la mia rabbia, perché poi diventa frustrazione e aggressività. Ok, andiamo sul polo opposto e molti mi chiedono come mai sono triste, come faccio a, questo è bellissimo, combattere la tristezza, combattere, cioè tu hai una tua amica davanti alla tristezza e gli dice, senti ti volevo dire, no ma volevo dire, stai zitta, dai vieni qua, combattiamo, tristezza, non si può combattere la tristezza. Che cosa ci dice la tristezza? Anche lei ci dà due messaggi sostanzialmente, il primo messaggio è c'è stata una perdita nella tua vita. Quando siamo tristi, quando perdiamo qualcosa, siamo tristi nel distacco da persone, che può essere un distacco perché ci distacchiamo momentaneamente, per un lutto, siamo tristi quando perdiamo il lavoro, quando perdiamo un'identità, quando perdiamo, perdita uguale tristezza. E' importante questa cosa. Sentite quanto è bello, veramente è bello che il buon Dio, se ci credete, o l'evoluzione naturale per chi è sull'altro eccesso, ci ha dotato di questa emozione che in modo diretto blocca tutto. Blocca tutto, dice, ehi, ora hai perso una cosa importante nella tua vita. Lascia stare, non hai bisogno di correre, distrarti, andare in discoteca, è quello che noi invece cerchiamo di fare. Ora è il momento di togliere energia all'esterno, ma è meraviglioso, davvero, ogni volta che lo dico, lo vedo, sempre meglio e mi rendo conto della meraviglia, della perfezione delle emozioni. Dice, non ti preoccupare, ci penso io. Proprio sta là col, col, come si chiama, col banco di comando, no? E dice, togliamo energia ai motori, togliamo energia, ora abbiamo bisogno di energia per chi? Per noi. Abbiamo energia, abbiamo bisogno di energia verso l'interno per integrare questa perdita, per rallentare. Per rallentare. Ecco, perché, qual è il bello della tristezza? È che ci rallenta. La rabbia ci attiva, la tristezza ti dice, eh, tranquillo, ora pensiamo un po' a noi, rannicchiati. La tristezza è quella che ti fa rannicchiare, andare verso l'interno, elaborare quello che sta succedendo e ti avvisa che c'è una vita da far ripartire in modo nuovo. Organizzati per riattivarti, quindi è tutto bilanciato. Ok, vediamo la gioia. La gioia è semplice. La gioia ti ricorda che sei in un momento in cui c'è la soddisfazione dei tuoi bisogni e a volte dei tuoi desideri e quindi ti invita, ti dà quella carica che ti invita a ricercare, a ripetere l'esperienza, a ricercare nuove esperienze di quel tipo. Perché anche questa è meravigliosa? Perché non devi pensare ma la rifaccio questa esperienza o no? No. È lei che ti dice tu stai camminando mano nella mano con una persona e ti senti gioiosa. Ah, che bello, eh? Quindi avrai automaticamente ci pensa lei, non ci devi pensare tu, automaticamente voglia di ripetere quell'esperienza. Il problema qual è che gioia e piacere creano poi assuefazione, cioè poi diciamo voglio solo quelle. E no, c'è un momento per ripetere quell'esperienza, c'è un momento per integrare una perdita, c'è un momento per far rispettare i tuoi confini, dobbiamo imparare che le emozioni cambiano perché c'è un momento per ogni cosa. È come nella giornata, hai un momento per il lavoro, un momento per l'inattività, un momento per lo sport, un momento per la lettura e è nell'equilibrio che c'è il benessere. Noi invece poi ci attacchiamo a certe emozioni e altre le rifugiamo. Ah, prendiamo quest'altro. Lo stupore. A che serve lo stupore? Perché rimaniamo stupiti, wow, perché ci fa subito percepire che siamo di fronte a qualcosa di nuovo e inatteso, inaspettato, quindi qualcosa a cui non siamo abituati e stimola una funzione che è necessaria alla vita, la curiosità. Ogni volta che mi stupisco sono curioso, wow, allora c'è ancora qualcosa, wow, quel wow è scopri, vai avanti, lo stupore ti mantiene viva la curiosità, che meraviglia. Lo stupore quindi ci piace, la gioia ci piace, ora andiamo su un versante che ci piace meno, l'ansia. Allora, l'ansia come sensazione, perché l'ansia ha uno spettro, dalla sensazione di ansia si arriva pure al disturbo di ansia, ok? L'ansia come sensazione che cosa facci? Ci avverte di un po' di cose, ci avverte del fatto che ci possono essere sfide e pericoli e quindi possiamo e dobbiamo affrontarle adeguatamente. Questa è l'ansia cosiddetta produttiva. Devo fare un esame, devo affrontare una situazione nuova, devo parlare a un convegno, non puoi arrivare arrabbiato. Vai sul palco di un convegno, basta, allora vi volevo di... No, non puoi arrivare triste. Allora, buongiorno a tutti e cerchiamo di passare quest'ora insieme. Puoi arrivare gioioso? Eh, buongiorno, buongiorno... Sì, ok, però deve arrivare soprattutto in un modo sveglio, preparato alla prestazione e con una valutazione attenta dei possibili ostacoli, pericoli. Ora si crea l'ansia, cioè una pre-visione, un'anticipazione del momento importante che stai per affrontare con i possibili pericoli. Cioè, è una un'allerta necessaria ad affrontare al meglio quella situazione e questa è l'ansia produttiva. È giusto avere un po' di ansia prima di un esame, un po' di ansia prima di una prestazione. L'ansia da prestazione. Tu, come tutte le emozioni, se poi diventa invadente, invasiva e pervasiva, cioè se poi l'ansia invece diventa un disturbo d'ansia, vuol dire che sto sempre in allerta e si ha ansia generalizzata proprio perché non c'è un motivo, ma anche in quel caso, anche come disturbo, ha un messaggio che ci porta. Ecco, l'ansia in quel caso ci sta dicendo vuoi tenere troppe cose sotto controllo. Come è produttiva se vuoi tenere sotto controllo la prestazione di domani, perché è importante. Se invece vuoi tenere sotto controllo i figli, la spesa, il lavoro, se poi mio marito mi lascia e se poi la mia amica non mi chiama, se poi se vuoi tenere sotto controllo tutto, l'ansia ti sta dicendo non ce la fai, ti sovraccarica il sistema per dirti devi cambiare qualcosa. Tutti i sintomi, i disturbi che poi sono, volendo semplificare, delle emozioni protratte nel tempo che diventano pervasive, invadenti e invasive, tutte hanno questo messaggio, c'è qualcosa da cambiare. In questo caso occupati di meno cose, molla il controllo, non è che non te ne devi occupare della spesa dei figli, ma devi cercare di disattivare il controllo, perché noi quando siamo in ansia vuol dire che abbiamo attivato il controllo che ci fa perdere il controllo e l'ansia proprio ti fa perdere il controllo per dire devi mollare il controllo. Ok? La paura, abbiamo dimenticato la nostra alleata migliore, la paura, la paura, perché provo paura? È semplice, perché vuoi sopravvivere? La paura è attivata, il nostro sistema d'allarme è attivato e che attiva il nostro istinto di sopravvivenza. Semplice. Ok? È giusto avere paura? Non lo so, è naturale avere paura. È chiaro che ci sono paure utili e paure dannose, l'abbiamo visto in altri video. Se ho, finché ho paura dell'altezza, la capisco che il fatto di tirarmi indietro, che si blocca il respiro e che il corpo va indietro se sto su un'altezza mi salva la vita. Se inizio ad aver paura del giudizio degli altri, è una paura inutile, dannosa, perché? Perché il giudizio degli altri non è pericoloso, non ci uccide in realtà, in più è una costante, siamo esposti al giudizio degli altri, giudichiamo e siamo giudicati sempre, costantemente, e quindi mi crea una sorta di paura cronica, inutile, che mi danneggia, che non mi fa vivere bene. Quindi tutte le emozioni hanno un messaggio fondamentale, ma è ovvio che dipendono dalla causa. E qui alla fine farò una metafora che spero faccia capire bene questo. Andiamo avanti velocemente perché siamo già abbondantemente sopra i 15 minuti. il disgusto, il disgusto da che cosa ci protegge? Da qualcosa che è nocivo, dannoso per noi. Come il disgusto fisico fisico mi fa capire che è un veleno quello che sto per ingerire, i sapori non è che ci sono a caso, è in natura, i sapori il nostro provare piacere, gusto nel mangiare qualcosa o disgusto mancanza di gusto nel mangiare qualcos'altro è perché la natura ci fa capire questo è nutriente, questo è velenoso. Il disgusto per esperienze, per diciamo per esperienze, il disgusto psicologico, questo no, non riesco proprio a pensarci, non riesco proprio a sopportarlo, ci fa capire che quell'esperienza è velenosa per noi, violiamo i nostri valori, violiamo i nostri bisogni più profondi, se solo ci penso no, non mi ci far pensare che ho fatto in quella situazione o che dovrei fare in quella situazione no, non ci riesco proprio a pensarci, vuol dire fermati, è velenoso per te. La vergogna, la vergogna, ecco, allora analizziamo quest'area di disgusto che nelle situazioni relazionali, psicologiche, si spiega molto di più, cioè si lega scusate molto di più a due altre emozioni, difficile che proviamo proprio disgusto per un'esperienza o per una relazione, proviamo però vergogna e colpa, allora la vergogna in realtà ha una funzione molto importante, ci fa riflettere, ci invita a riflettere, ci dice ehi, ehi, attento, ti vergogni di questo, che vuol dire? Vuol dire che stai violando delle regole, possono essere delle regole sociali, mi vergogno a camminare in mutande in supermercato, ok? In realtà se ci pensate perché è una norma sociale, bellissima questa cosa, perché poi cambiamo contesto, andiamo al mare e sostanzialmente siamo in boxer, stiamo in costume, cioè un costume è un intimo colorato e non è che cambia, però al mare è socialmente accettato quel comportamento, se invece sono in settimana bianca, sono al supermercato, sotto casa mia, scendere in bichini no, mi vergogno, pensateci, perché sto violando solo una norma sociale, là non vado a violare un mio valore, invece posso vergognarmi perché sto violando un mio valore importante, quante volte diciamo sto, non so, io sento queste cose, sto uscendo con una persona sposata, però non l'ho detto nemmeno alla mia migliore amica perché mi vergogno, perché? Perché sono entrati in un'esperienza che so che va a violare i miei valori più importanti e semmai la mia amica può dire ma che stai facendo, non ti riconosco, perché sto violando dei miei valori. La colpa, il senso di colpa, anche questa sensazione di colpa, questa emozione, chiamiamola emozione, non è propriamente un'emozione, però mettiamola tra le emozioni, che cosa ha di positivo il senso di colpa? Che se fossimo in grado di ascoltarlo ascoltarlo e non di punirci e non di giudicarci e non di condannarci, ma se ascoltiamo perché mi sento in colpa? Perché in questo caso sto facendo male a qualcuno, quel qualcuno posso anche essere io, ma solitamente il senso di colpa è più verso altri, e quindi mi sta avvertendo ehi, stai facendo male a qualcuno, renditene conto e puoi riparare, interrompere questo comportamento, fare ammenda, cercare di gestire la situazione. Ogni emozione ci dice ehi, fermati e gestiamo la situazione, c'è qualcosa da cambiare. L'amore ci connette profondamente agli altri e che fa? Promuove sostanzialmente i legami. Quando siamo innamorati, noi stiamo costruendo, siamo all'inizio, però stiamo costruendo un legame di coppia, promuove il legame di coppia. Quando sentiamo quel bene profondo, io lo vedo coi miei figli, col migliore amico, la migliore amica nella preadolescenza, nell'adolescenza, che cos'è quella ti voglio bene che diciamo a un amico o a un amico, che bene che voglio al mio amico, è proprio promuovo un legame forte, stabile con quella persona. Quindi l'amore nelle sue varie forme ci sta dicendo ehi, esci da te, considera anche un'altra persona, altre persone e costruiamo un legame, che bel messaggio, costruiamo un ponte tra noi, tra me e quest'altra persona. Ok, direi che ci possiamo fermare, mi avete chiesto anche, perché qui mi hanno fatto una lista di tutte le richieste, la depressione, mi avete chiesto, la depressione è un'emozione? No, la depressione non è un'emozione, la depressione va distinta dalla tristezza, la depressione in realtà è rabbia verso se stessi, però la depressione ha un, anche la depressione ha uno spettro che va da una leggera depressione, da stati depressivi, fino a quella che si chiama depressione clinica maggiore, che invece è una sensazione costante di apatia, stanchezza, mancato piacere per ogni attività e ogni esperienza, ma anche quella ha un aspetto di comunicazione, assolutamente un sintomo, non è mai contro di noi, e ha un aspetto funzionale, esiste una depressione funzionale, sì, assolutamente, che cosa ci sta dicendo però? Ogni sintomo ci parlano, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che siamo arrabbiati con noi stessi, quindi stiamo violando qualcosa di molto importante e molto profondo, ma lo abbiamo cancellato, perché se ce ne rendessimo conto sarebbe rabbia espressa verso noi stessi, invece quella è rabbia rivolta verso se stessi che produce quel sintomo. Vuol dire sei arrabbiato con te per qualcosa nota nelle varie aree della tua vita, fermati, per questo ci paralizza la depressione, rifletti, quindi vai verso l'interno come la tristezza, e vedi che ci sono delle aree importanti della tua vita che hanno bisogno di cambiamento forte, necessario, altrimenti così rimani steso. Quindi è molto importante. la stanchezza cronica mi avete chiesto non è assolutamente un'emozione però è un sintomo, la stanchezza cronica che cosa mi dice? Semplicemente che mi devo fermare, che non ce la faccio più, quando non ce la fai con ragionamento a capire che sei sovraccarico, il tuo sistema mente-corpo ti paralizza, ti fa sentire stanco anche se non fai niente e ti dice sei oltre le tue capacità, ti fermo io visto che con ragionamento non ci arrivi, visto che consapevolmente non ci arrivi. Concludendo, il nostro inconscio è dotato di tante forme di comunicazioni che sono le nostre emozioni, ne abbiamo viste solo alcune, per darci dei messaggi diretti, forti e molto più impattanti, veloci, molto più sinceri, mi viene da dire, del ragionamento. Molte volte che cosa succede? Che la causa va rintracciata e può essere una causa tra virgolette sbagliata. La metafora che utilizzo e che a me l'ha fatto capire è questo. Tutti i sistemi di un aereo sono utilissimi. Il sistema che mantiene la quota, il sistema di allerta, il sistema missilistico si è armato un aereo, sono tutti utilissimi. Il problema qual è? Che se vanno fuori controllo, se impazziscono e si attiva un missile contro una nave da crociera perché il sistema è stato attivato da una causa sbagliata e andato in tilt, allora può provocare danni. Se l'allarme di una casa si attiva per ogni mosca che batte sul vetro allora da funzionale utile invece diventa fastidiosa e inutile anzi dannosa. Quindi le nostre emozioni sono tutte strautilissime, sono tutti sistemi meravigliosi. Dobbiamo solo capire quando e se vanno in tilt i sistemi che le attiva. Cioè se io sono triste per qualcosa che non è successo, vi faccio questo esempio, chi inizia essere triste per previsioni. No sto giù sono triste, no guarda stasera non esco perché perché fra otto anni mi scade il contratto e se non me lo rinnovano. Ecco là c'è da agire sul fatto che quel sistema che è giusto sta reagendo però a una perdita ipotetica fra otto anni ora lo è esasperato ma credetemi è anche poco esasperato e noi a volte la mente fa questi scherzi siamo tristi per cose che non sappiamo nemmeno se mai avverranno. sono triste perché forse cambierò città e casa fra tre anni io questo lo sento davvero. Allora non puoi essere triste adesso ora stai attivando un sistema utilissimo ma che dovrai attivare fra tre anni fra tre anni cambi casa cambi lavoro ti vivi la tristezza della perdita ma fra tre anni se te la vivi adesso per una previsione è sballato. Ok allora mi sono dilungato e ho prolungato questo video ma ho voluto anzi ringrazio il mio staff che mi ha dato questi questi vostri queste vostre richieste questi vostri commenti così è ancora più interattivo. Mezz'ora di video se ce l'avete fatto a guardarlo fino a qua spero che vi sia utile se è così mettete un like e attivate mettete un like e condividete il video con le persone a cui può essere utile iscrivetevi al canale attivate la campanella per essere informati e se volete sostenere questa divulgazione gratuita questo progetto di divulgazione gratuita potete farlo con il pulsante grazie che trovate sotto il video o se non lo vedete dovete premere i tre pallini che sono a destra sotto il video e vi esce il grazie e mettete una donazione di qualche euro una tantum oppure potete abbonarvi al canale con pochi euro anche due euro al mese ci sostenete e sostenete questo progetto non sostenete noi ovviamente va bene? e noi ci vediamo nel prossimo video